Rivelazioni shock di Marina Berlusconi sul caso Meloni-Gianbruno. Restate con noi perché abbiamo un'ulteriore notizia shock all'interno del video. L'aria è carica di pettegolezzi e retroscena scottanti. Marina Berlusconi, la potente presidente di Fininvest e Mondadori, ha concesso un'intervista esplosiva a Bruno Vespa per il suo prossimo libro intitolato Il rancore e la speranza, in uscita a novembre. Ebbene, sembra che Marina abbia molto da dire su Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia e attuale figura politica di spicco. Ma prima di procedere, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati. Durante l'intervista, Marina Berlusconi ha speso parole di elogio per Giorgia Meloni, definendola capace, coerente e concreta sia dal punto di vista politico che come donna. Ma cosa potrebbe essere di più interessante di un commento così esplicito? Bene, sembra che ci siano anche voci sulle tensioni tra la famiglia Berlusconi e il presidente del Consiglio, soprattutto in merito alla vicenda Gian Bruno accaduta pochi giorni fa. Voi cosa pensate di tutta questa vicenda? Fateci sapere nei commenti il vostro parere e lasciate un mi piace al video. Ma tornando all'intervista con Marina Berlusconi, sembra che ci sia una storia di apprezzamento per il governo attuale, anche se con alcune riserve. Marina ha sottolineato il suo sostegno a scelte di politica estera in linea con principi atlantisti ed europeisti, nonché una gestione responsabile dei conti pubblici. Tuttavia, non ha esitato a esprimere il suo dissenso su alcune mosse del governo, senza nascondere il suo parere. Ma ecco a voi la notizia shock che sta facendo molto discutere l'opinione pubblica. Ci sono indiscrezioni che circolano riguardo a dichiarazioni shock di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi proprio su Giorgia Meloni. Bene, se siete curiosi di sapere questo retroscena restate con noi e seguite il prossimo video. Arrivederci.